A volte, anzi spesso, ritorna. La nazionale di ciclismo paralimpico era mai di casa in Abruzzo. I ragazzi del commissario tecnico Mario Valentini sono da qualche giorno in ritiro a Pineto per iniziare a preparare gli appuntamenti più importanti della stagione, dalle prove di Coppa del Mondo ai campionati italiani fino ad arrivare al sogno olimpico di Tokyo 2020. In questa prima uscita azzurra abbiamo incontrato l'uomo simbolo del paraciclismo italiano, Alex Zanardi. Ma Alex Zanardi è una persona molto fortunata che potrebbe anche accontentarsi, però visto che non ho l'opportunità, perché non osare, non provare ad andare oltre, non provare di cogliere altre soddisfazioni e comunque rimanere in un mondo che amo e al quale posso effettivamente, anche se non con i miei risultati, continuare a dar luce grazie a, se vuoi, la popolarità che mi sono iguagnato in altri ambiti. Quindi, credo, quando ho iniziato a fare in bike, io stesso sapevo pochissimo di questo mondo, le nostre gare erano viste come partecipative, più che competitive. Oggi lo sport parolimpico invece viene guardato con grandi interessi da tutti. Si sa che nello sport parolimpico vengono vissute, messe in atto, gare vere e credo che se il mio passaggio ha dato un piccolo contributo a far sì che questo accadesse, è importante che io provi ad insistere, che io resti, anche perché francamente non mi costa sacrificio. Quante stagioni, quanti anni hai vissuto nel paraciclismo, Alex? Beh, ormai sono dieci anni, perché io ho scoperto l'endbike nel 2007, ho iniziato a fare gare nel 2009 e quindi sì, è il decimo anno. Speriamo che mi porti qualcosa di buono. Qual è la cosa, l'episodio, la persona che non potrai mai dimenticare in questi dieci anni? Ma non voglio essere retorico, per cui mi limito a dire tutti i miei compagni di nazionale, tutti quei ragazzi ai quali ho rubato in qualche modo qualcosa, perché credo che l'ispirazione sia una cosa davvero potente, sia ciò che può innescare quel materiale combustibile che esiste dentro ognuno di noi, che ti può portare a fare le cose e vedere tanti ragazzi che fanno attività avendo in qualche modo superato i loro problemi personali e altri tipi di ostacoli, è un qualche cosa che illumina, che ti accende, che ti fa venire voglia, ti porta a dire che se lo fanno loro posso riuscire anch'io. E quindi tutto questo mi ha guidato verso anche importanti risultati sportivi, ma continuo a farlo e mi auguro che tante persone possano trovare, se non in questo mondo, in altri ambiti, la loro scintilla, ciò che serve per dare ancora più senso alla vita che stanno vivendo.